oh ma siete voi? ciao amici ben ritrovati questo è il canale di super mario vj e se non sei iscritto mi raccomando iscriviti e lascia un pollice in su e benvenuti ragazzi al mio canale sono super mario vj e oggi siamo qua con brawl stars siamo sempre qua nudi come il video di ieri mi dispiace farvi vedere quanto sono brutto ma ovviamente il caldo non mi fa eccedere in questa tentazione di mettere su una maglietta the most satisfying video ever in brawl stars del canale che vi lascio in descrizione ash brawl stars ash non quello dei pokemon ovviamente ash presence andiamo subito a vedere raga mica ci abbiamo un wrestler con questa skin bellissima aspettate un attimo ma quanti quanti sono quanti sono i pistoleri no di nuovo col quello leggendario che purtroppo non ho e non so neanche come si chiami cioè è riuscito a sopravvivere non so neanche il nome di questo di questo brawl raga perchè io non ce l'ho poi intanto lì vediamo che c'è quella lì in mezzo che si chiama scusate un attimo che lo vado a recuperare ma intanto vediamo cosa fa ma quante volte lo sta facendo ma che super potere è quello raga ah c'è la super forza la super mega mamma mia li ho distrutti tutti ok vediamo quello di prima leon come cavolo si chiama questo raga e quelli cosa sono zabdos moltres cosa sono quei cosi volante ok il corvo ok il corvo con la skin lì bellissimo con la skin leon si quello lì si chiama proprio leon ma io di alcuni non li so i nomi perchè non c'è gli ho ancora sblocati intanto vediamo qua il lanciatore no ti hanno fatti fuori tutti mamma mia ma sto corvo ah si chiama proprio corvo si chiama sto corvo è fortissimo boys ma io non ce l'ho potevo sbloccare il leggendario ma dove cavolo lo sblocco io tanto avete visto lì come sono morti come sono morti subito il brock lancia missili e qua siamo con shelly shelly distrugge tutti si distrugge tutti shelly è fortissima quanti sono quanti lo stanno seguendo raga non ce la fanno non ce la fanno shelly è fortissima il super la super forza lì è fortissimo vai vai shelly bravissima brava così si fa oh attenzione attenzione qua che c'è in mezzo poi abbiamo quest'altro leggendario come si chiama quest'altro leggendario spike what non ho capito si abbiamo la principessa principessa con l'ombrellino ma attenzione che succede che succede a lanciare bombe piper ecco piper che distrugge tutti no non li ha distrutti lo rilancia rilancia di nuovo è fortissima piper c'è la super molto molto forte oh attenzione qua bella di nuovo leon si vai vediamo un po' vediamo un po' l'han distrutto no leon perchè sei morto morto si è per forza guardate lì guardate lì i cosi che lanciano i palloncini i cosi i palloncini si stecca come si chiama piper distrugge uno what ha preso si l'ha preso ha distrutto anche quello ma 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 vabbè gli altri non possono vedere dove è però si nasconde attenzione distrutto quell'altro ne distrugge manca uno vai shoot down preso come faccio a sapere dove l'hanno sposta siamo di nuovo qua col corvo con quella skin bellissima del corvo quante volte fa la super quante volte sta facendo la super il corvo guardate bellissimo con la skin molto molto bella no dinamiche quello si dinamiche what non sto capendo niente no ho perso contro il mortis mamma mia che strage che ha fatto come si chiama quello penny penny fate una strage penny guardate lì quanti ne ha distrutto tutti 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 quanti guardate quante bombe i penny rivediamo rivediamo rallentatore penny lancia la super danno del mortaio guardate quanto danno fanno il mortaio si capisce niente ok siamo qua con robin hood boh e un leon vediamo leon teletrasporto di leon no li schiva tutti è velocissimo quando diventa fantasma leon ah la super si chiama fumogeno ok è velocissimo comunque bellissimo leon raga lo voglio rivediamo guardate che velocità che fa esplodere fa esplodere il coso dei dei robin hood la super che si chiama danni per trappola qua abbiamo tara vediamo un po' tara che fa con gli orsi ci sono gli orsi mettiamo quello degli orsi nita ok è nita che fa tara lì ma gli orsi si stanno ammazzando tra di loro non ci credo il danno orso di nita raga bellissimo video complimenti ad asha ragazzi se volete altre reazioni di questi stupendi video lasciate tantissimi like e questo video ragazzi finisce qua se volete altre super reazioni di bruce stars o di qualsiasi altro gioco lasciate tantissimi like iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video bello iscrivetevi iscrivetevi